Commenti negativi sia di Confindustria che della CGL sul decreto dignità varato dal governo. Secondo il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli il DL è un macigno sui fondamentali che hanno permesso di avviare la ripresa economica del paese perché colpirebbe la fiducia delle aziende, la loro propensione ad investire e la possibilità di creare nuovi posti di lavoro proprio nel momento in cui la massima crescita dell'occupazione è stata certificata dall'Istat. Secondo Confindustria Piemonte non serve stabilizzare il lavoro flessibile ma crearne di nuovo che sia di qualità. Secondo la CGL il decreto dignità pur contenendo misure interessanti e condivisibili da tempo richieste dal sindacato a partire dall'intervento sui tempi determinati manca di coraggio nell'affrontare attraverso un intervento organico un profondo ridisegno delle regole del mercato del lavoro. Ma per farlo davvero la CGL chiede una proposta più forte che parta dagli investimenti volti a creare occupazione e passi poi dal sostegno agli amortizzatori sociali. Nettissima poi è la contrarietà della CGL verso l'intervento volto al ripristino dei voucher vecchia maniera a partire dal lavoro agricolo strumento che muove in direzione contraria alla annunciata difesa della dignità del lavoro. Poco coraggio anche nell'intervento sui licenziamenti ingiustificati e il Jobs Act dal decreto dignità non sarebbe stato per nulla licenziato. Anche la norma prevista sulla delocalizzazione per la CGL è solo un primo tentativo per arginare un fenomeno negativo per l'economia e l'occupazione in Italia ma non è una risposta compiuta. E poi per chiudere negativo è anche il parere sul pacchetto delle misure fiscali che va nel segno opposto rispetto a una politica che deve fare della lotta all'evasione e all'elusione uno dei principali filoni di intervento.